L'Unione Europea L'Unione Europea ci chiede di fare partenariati pubblico-privati, quindi la Goletta è stata ingaggiata per una ragione poi particolare che Marco Manziti illustrerà. Noi abbiamo una mission che è quella di far conoscere i nuovi progetti europei legati al mare alla nautica, un diario di bordo che possa sintetizzare, quando saremo al sole nautico lo potremo far vedere, il senso di tutte le testimonianze, di tutti i racconti, di tutte le interviste che avremmo raccolto e tutte le immagini stupende che avremmo raccolto. Con i nuovi progetti che stiamo predisponendo pensiamo proprio di portare alla nostra regione un po' di respiro in questo momento di grandi ristrettezze. Ringrazio però, oltre allo studio Manziti, tutti i partner perché questo progetto non si sarebbe potuto realizzare senza il vostro intervento. Quindi credo che la sperimentazione di questa partnership sia per noi anche un inizio per poter poi lavorare in questa direzione anche in futuro.